A nord-est della provincia di Roma, nell'area che va da Monte Rotondo a Fonte Nuova, la comunità romena sta cercando di completare i lavori della chiesa, un luogo di culto che è necessario per ospitare le migliaia di persone di fede ortodossa che vivono nel territorio. I lavori sono iniziati e sono anche a un buon punto, ma servono ancora soldi per ultimare l'opera. Siamo riusciti ad avere questo terreno. Abbiamo assunto un architetto conosciuto a Roma, Gianluca Adami, e il sindaco insieme al Consiglio Comunale ha accettato il nostro progetto. Svodandoci tutti fedeli le tasche siamo riusciti a fare lo scavo, le fondazioni e siamo arrivati con le nostre risorse fino al piano calpestio della chiesa. Sì, chiediamo aiuto alle persone di buona volontà, di cuore, se ci riescono a darci una mano perché abbiamo un tempo per costruire, questo è un tempo dato dal comune e non siamo autosufficienti. Il luogo di fede infatti servirà anche per socializzare e ospitare i giovani che vogliono condividere esperienze e progetti. I ragazzi nostri si vergognano un pochettino perché non hanno un luogo da presentarli proprio per dire viene a vedere da noi la bellezza dell'ortodossia, la bellezza del curto ortodosso, la chiesa vera e propria. A pregare qui arrivano persone da molto lontano. Posso dire che non quasi tutti i domenici, ma ogni tanto la domenica vengo qui a pregare in questa chiesa perché qui mi trovo la tranquillità, mi trovo la pace e diciamo per me è un luogo santo perché come ho combattuto per tanti anni con la malattia di tumore di cancro, qualsiasi cosa che mi fa male, che sta male quando vengo qua, mi trovo in questa zona la tranquillità e mi passa tutto e sono pronto di lavorare per il secondo giorno. Prego a tutti quanti, nel mio cuore, nel cuore di un produttore cinematografico, prego aiutate questa popolazione, aiutate questa chiesa a costruire perché ogni chiesa che è costruita che in Italia, che in Romania, che in altri paesi è una casa di Dio.